Benvenuti ragazzi per questo nuovo video, sono EbroCentGg e ragazzi oggi siamo qui su VR Simulator, questo coso, cioè oddio Non lo so, una giraffa capra, non lo so, vabbè ragazzi Iniziamo, ok ragazzi eccoci qui, praticamente dice Was deve muoversi, ovviamente, oddio, ma che cazzo Oddio è stranissimo, provo a fare delle cose Ok, allora, come faccio Oddio, oddio, ma che cos'è, oddio Ma che cazzo è sta roba, ok, è molto stra Cos, oddio, non so cosa sia Succeduto in questo momento, ma, ok, ok, zio Però stai calmo, come si è permesso Questa, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, allora Vedo troppe cose strane, calma, non so cosa dobbiamo fare Però, non gliene frega un cazzo, allora mi devono schiacciare Tra l'altro ho saltato sul niente, va bene Ok, guarda, guarda, sono grosso, guarda, sono grosso Zio, bella, oh, ha bello del zio, ma che cazzo fai No, ma, hanno cercato anche, dai, mi frega un cazzo Ma, ma questi artisti sono C'è Dumbo, ma che cazzo fa Dumbo qui? Oddio, fammi andare via questi qua, ah, c'è che non sia le persone, sia gli animali Oddio, salve zio Non volevo, giuro, oddio, ma posso bicchiere le persone? Buongiorno, ah, posso se... salve Non gliene frega un cazzo quel tipo Io sono incredibile Ah, ma posso uccidere le persone, ma io sono grosso, non uccido chi mi pare Oddio, no, porello Ah, sono morto Ho fatto una tattica to fossum Eh, insomma, porello A lavoro oggi non ci andai, dai, non ti dare così male alla fine Allora, non mi chiedere come ho fatto a scop... Allora, lo sto portando in giro Vabbè, non chiedere come ho fatto a scoprire sto gioco Stranissimo, dall'altro non c'è un obiettivo per il proprio, cioè facciamo cosa a caso Oddio Tra l'altro ho questo qua nel braccio Ma posso anche spostare le auto, ne sono accorto solo ora Maggiorno, maggiorno, così Imparata a acciaccare i cervi Oh, maledetti Posso... posso ballare Posso ballare quel tipo, ma che cazzo succede, regà Ok, non ci sto capendo più di tanto Io, comunque ho visto che si... mi posso anche arrampire come fa Spider-Man Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Mi chiamo in un modo abbastanza strano Penso che... non lo so Beh, è stranissima sta cosa Ok, sì Andiamo a qualche altra parte, grazie Oddio Cos'è quel posto? No, non morire Ah, non mori nell'acqua, perfetto Sì, io posso entrare? Permesso? Beh, io entro comunque Non pare che ci sia una porta, quindi... Oddio Sto distruggendo questo posto, com'è possibile? Ma si può distruggere? Ma no Io vorrei salire però, eh, questo... Cioè, ma per salire devi essere il maestro Spingizzo Sono incredibile Cioè, per salire devi essere il maestro Spingizzo Che cosa devi essere? Oddio Sì Spazio, mi fa una pippa Harry Potter Tutti scarsi ad arrampicarsi Superman, no, no Io ho proprio lei Il mio cervo Sì, facciamo... Per favore Non mi sbaccherò mai Vabbè, però Comunque me la sto capicchiando Oddio Sali Non sa, ok Eh, ho capito che è impossibile andare Ma andai giù C'è qualcosa di bellissimo Ma ragazzi, cioè Mi sta passando l'aeroplano di vicino Ma come ti per... No, devo prendere l'aeroplano al volo dopo Ok Lì c'è... Dumbo Attento al mostro Ok, bravissimo Dumbo Dumbo, ma... Ma quanto cazzo salto? Ma cos'è questa roba? Cos'è? È un pesce volante? Non sto capendo niente, regà Ma questo posto vale tipo... Mmm... Un posto Grazie Boh Ragazzi, non pare ci sia tanto da fare in questo posto Quindi ritorniamo in città a distruggere le cose Oddio Ma cosa c'è sotto il palazzo? Ragazzi, questo gioco più avanti è più strano Non so come sia possibile Mi ricorda gli scogliattoli, ecco No Oddio, mi inquieta molto quella cosa Oddio Tram Ha pure il tram la posso distruggere Ah, fa un culo GTA V Che non potevo farlo Ma si muove questo coso? Sono pure il coso adesso? Oddio Maglionna Ma... Magna qualcosa Che qua ti trapasso Oddio, un campo da basket Dopo ci sono le mucche Vengo io a miei fratelli Vabbè, più o meno fratelli Cugini Sto arrivando Vi faccio il culo, Maglionna Sì, alzati però No È un po' emozionata la mia capra Maglionna, sono grosso Sono grosso Vieni qua, ti meno Ma quanto cazzo è grossa sta mucca? Muori Subito Ah, far capire chi comanda, ragazzi Mi raccomando Fate sempre così Oddio Scusami Non volevo Bisogna shiftare E... Tiro No, non funziona proprio così In teoria adesso è alzata la palla Oddio Sono diventato il Goku per un secondo Ma che cazzo succede? Mi sono spaventatissimo Ok, adesso sono curioso Oh, porca Ma devo uccidere le pecore Che sul cazzo succede? Oddio Ma questa mucca da dove viene? Mi sono spaventatissimo Penso, ragazzi, che le capre mi vogliano male Mmm Forse non dovevo uccidere la mucca Eh Oddio Le capre Eh, ma noi siamo più Zio, però Se sei troppo bianchi Vi confondete col pavimento Ma posso volare pure io? Aspetta, ma altro le capre non posso saltare Sono stupide No, aiuto No, 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 no Scappa, scappa Non salta questo Scapa, salta per qualcosa C'ho ansia In questo momento ho molta ansia Comunque ragazzi Se arriviamo a 15 like Facciamo Fai una heads a freddis Giuro E io Ho chiesto tutti questi like Perché mi cago sotto Degli horror Capite? Ci sono le capre che mi vogliono morto E io È ora di combattere ragazzi Quando il gioco si fa duro Io Glielo metto sempre Eh no In quel posto insomma Bella Ok E vorrei far capire Chi Chi sa combattere Ok No 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 Scherzi 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 Mariana Le pecore Le cavre Qua Mariana 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 Occiso tutte Oddio Ho ucciso I poliziotti Non so quando ritorneranno Però va bene così Ma vedi Qua c'è la polizia Cioè Posso anche guidare Ma volevo Me lo potete dire Prima Oh mio dio Cazzo Ma quanto cazzo Si piotta Cioè Ma una Ferrari Va di meno Sì Mi sono già incastrato Perfetto Ma si levi lei ma oddio signora vi faccio fare un piccolo viaggio da città vada via la lascio libera penso che sono bravo ha bisogno trovare un'altra auto che posso guidare guarda su grosso guarda su grosso guida vai oddio ma che cazzo ma ci hai messo proprio il buco apposta mi pare una cosa molto più brutta però non diciamo cosa oh no la polizia si è arrabbiata ok beh io sono immortale ah combatto con lui ah via aia mi vogliono bicchiare ma come si permettono queste persone non potete bicchiarmi oddio ma che cazzo eh aiuto ma che cazzo si c'è oddio raga sta andando tutto in cacciara sta andando che ho ucciso tutte le pecore sinceramente mi dissocio da ciò che ho appena visto cioè sto gioco in una serie posso guidare i cavalli vabbè ma che cazzo sto vedendo ma no oddio un motorino che si guida da solo vieni qua ma no ah eh ok boh ragazzi io direi per questo video è tutto lo so che non è uscito lunghissimo però non so penso fosse meglio questo gioco invece niente quindi arriviamo a dai anche 12 like 10 like ragazzi se ne riesco anche a parlare e niente ci vediamo al prossimo video bella ragazzi mamma mamma mamma